Amerigo Vespucci, l'esploratore che diede il nome all'America. Amerigo Vespucci è stato un navigatore, esploratore e cartografo italiano, nato a Firenze nel 1454 e morto a Siviglia nel 1512. È noto per essere stato il primo a rendersi conto che le nuove terre scoperte da Cristoforo Colombo nel 1492 non erano l'Asia, come si credeva inizialmente, ma un nuovo continente. Vespucci nacque in una famiglia di mercanti fiorentini. Dopo aver studiato a Firenze, si trasferì a Lisbona, in Portogallo, dove iniziò a lavorare come agente commerciale per la famiglia Medici. Nel 1497 fu assunto dal re del Portogallo, Giovanni II, per partecipare a una spedizione esplorativa nelle nuove terre scoperte da Colombo. La spedizione, guidata da Goncalo Coelho, partì da Lisbona nel maggio 1497 e raggiunse la costa dell'America del Sud nel gennaio, 1498. Vespucci partecipò a tre viaggi esplorativi in America, nel 1499-1500, nel 1501-1502 e nel 1503-1504. Durante i suoi viaggi, Vespucci rilevò che le nuove terre erano molto diverse dall'Asia. Le coste erano più frastagliate, il clima era più caldo e le piante e gli animali erano sconosciuti in Europa. Vespucci compresse quindi che le nuove terre erano un continente a sé stante, e lo chiamò Nuovo Mondo. I resoconti dei viaggi di Vespucci furono pubblicati in Europa e suscitarono grande interesse. Nel 1507, un cartografo tedesco, Martin Waldseemuller, pubblicò una mappa del mondo in cui il Nuovo Mondo fu chiamato America, in onore di Amerigo Vespucci. Il contributo di Amerigo Vespucci alla scoperta dell'America è stato fondamentale. La sua intuizione che le nuove terre erano un continente a sé stante ha cambiato la percezione del mondo da parte, degli europei. I viaggi di Amerigo Vespucci Il primo viaggio di Amerigo Vespucci in America ebbe inizio nel maggio 1497. La spedizione, guidata da Goncalo Coelho, partì da Lisbona e raggiunse la costa dell'America del sud del gennaio 1498. Vespucci partecipò alla spedizione come pilota e cartografo. Il viaggio fu un successo. Vespucci e Coelho esplorarono la costa dell'America del sud dal Brasile al Venezuela. Rilevarono che la costa era molto diversa da quella dell'Asia, e che le piante e gli animali erano sconosciuti in Europa. Il secondo viaggio di Vespucci in America ebbe inizio nel maggio 1499. La spedizione, guidata da Alonso de Ojeda e Juan de la Cosa, partì da Lisbona e raggiunse la costa dell'America del sud nel luglio 1499. Vespucci partecipò alla spedizione come pilota e cartografo. Il viaggio fu ancora più importante del primo. Vespucci e i suoi compagni esplorarono la costa dell'America del sud dal Venezuela al Golfo di Maracaibo. Rilevarono che la costa era ancora più frastagliata e che il clima era ancora più caldo. Il terzo viaggio di Vespucci in America ebbe inizio nel maggio 1501. La spedizione, guidata da Vespucci stesso, partì da Lisbona e raggiunse la costa dell'America del sud nel giugno 1501. Vespucci partecipò alla spedizione come comandante e cartografo. Il viaggio fu il più lungo e il più impegnativo di Vespucci. La spedizione esplorò la costa dell'America del sud dal Brasile al Golfo di San Lorenzo. Rilevò che la costa era ancora più ricca di risorse naturali. Il contributo di Amerigo Vespucci Il contributo di Amerigo Vespucci alla scoperta dell'America è stato fondamentale. La sua intuizione che le nuove terre erano un continente a sé stante ha cambiato la percezione del mondo da parte, degli europei. Vespucci è stato il primo a comprendere che le nuove terre scoperte da Corombo non erano l'Asia, come si credeva inizialmente. La sua scoperta ha avuto un impatto profondo sulla storia del mondo. Vespucci è stato anche un cartografo di talento. I suoi resoconti dei viaggi in America hanno fornito importanti informazioni sulla geografia del nuovo mondo. Il nome di Amerigo Vespucci è stato dato al continente americano in suo onore. Grazie a tutti.